Radio Streghetta, l'oroscopo. Buongiorno a tutti dalla Rinascente Tele. Scopri l'oroscopo del giorno offerto dai più grandi astrologi italiani del centro dei cartomanti europei. Seguici su Twitter, digita chiocciola rinascente tel e trovaci anche con gli hashtag cartomanzia, cartomanti o astrologia. Ariete! Vi fermerete a riflettere. Non è una pratica abituale, ma stavolta servirà parecchio. La serenità di una scelta ponderata vi metterà al riparo da qualsiasi tipo di contestazione, dato che saprete ribattere colpo su colpo qualsiasi tentativo di smontare la vostra decisione. In amore dominerete la scena. Toro Manovre a distanza. Guiderete da dietro le quinte l'evoluzione di un avvenimento che nonostante tutto rischierà di sfuggire al vostro controllo. In famiglia vi verrà chiesto di chiudere un occhio su una ragazzata dai vostri danni. Quindi starà a voi capire se il misfatto possa essere perdonato. In amore non cercate di imporvi. Gemelli Bisogna essere freddi e ragionare. La situazione di certo che si presenterà è delle più ingarbugliate, ma saprete trovare una vittoriosa soluzione. In amore troverete il tempo per farvi coccolare. Cancro Condividerete un'insolita esperienza, vi ritroverete a vivere una situazione quasi paradossale, che accanto alla persona giusta potrebbe prendere dei contorni simpatici e divertenti. Il lavoro avrà un ruolo secondario, anche se non dovrete metterlo da parte. In amore dovrete prendere una decisione necessaria. Leone Avrete voglia di delegare e dovreste resistere dall'impulso di far decidere qualcun altro al vostro posto. In amore non avrete alternative, se non affidarvi al vostro merito preferito. Vergine Faticherete per ottenere un risultato, la faccenda è più difficile di quanto avreste mai pensato, ma non vi lascerete abbattere dalle difficoltà, sebbene un'enorme fatica a concretizzare l'obiettivo che vi eravate prefissati di raggiungere. In amore la lontananza servirà a farvi comprendere meglio ciò che è importante. Bilancia Sarà una giornata dei tempi molto stretti, riuscirete a incastrare in maniera ottimale tutti gli appuntamenti e i numerosi impegni. Chi vi è amico da molto tempo non rifiuterà di contribuire al lavoro, risultando determinante per la riuscita dello stesso. In amore procederete a rapide fiammate, brevi ma intense. Scorpione Dovrete stabilire un piano di azione. Se non farete ordine sarà difficile riuscire a coordinare tutte le attività necessarie per ottenere il risultato sperato. E lasciate che chi vi affianca possa offrire il suo contributo e ridurrete notevolmente i tempi. In amore darete una scossa a una situazione bloccata da tempo. Sagittario Userete tutte le vostre abilità per ottenere un risultato. Il lavoro avrà la preminenza su ogni altro tipo di attività. Dovrete fare una scelta importante che manifesterà i suoi effetti solamente tra qualche tempo. Rinuncerete a un vostro diritto per il bene di una persona cara. In amore conquisterete il cuore di qualcuno. Capricorno Oggi sentirete la forza sprizzare da tutti i pori e sul lavoro i colleghi non terranno il vostro ritmo. E ciò provocherà una lieve maressere che risolverete tutto con un sorriso. In amore un incontro vi porterà in orbita. Acquario Giornata di scelte importanti dove verrete messi alla prova da una persona a voi molto vicina. Lasciate la scelta al cuore. In amore cercate di restare coi piedi per terra. Sognare è pericoloso. Pesci Sarete in grado di affrontare una situazione abbastanza spinosa in ambito personale. Il vostro approccio alla discussione sarà fondamentale per trovare una soluzione. Siate comprensivi con i colleghi dato che un avvenimento imminente vi porterà ad avere necessità di compattare le forze. In amore dovrete mantenere la lucidità e prendere una scelta. In amore dovrete mantenere la scelta.